Guarda, sono veramente contento perché appena sono arrivato qua ho avuto un po' la conferma di quello che vedevo, del grande entusiasmo e della grande ambizione che c'è qua. Mi hanno cercato, mi ha contattato Domenico che sempre mi è stato molto vicino e alla fine sono venuto a parlare con loro qua e subito un po' mi sono innamorato dell'ambiente, della voglia, dell'ambizione che ti dicevo prima, che si respira qua. Sono veramente sorpreso di quello che ho visto l'anno scorso, sono il primo che vuole vincere, non posso dire che vinceremo perché quello non si può dire mai, però quello che posso promettere sarà una squadra che farà divertire la gente in campo.